fare così un overclocking e migliorare così gli fps su Fortnite perché in questo caso anche se riscontri problemi di crash è possibile aumentare gli fps non crashando più perché per risolvere il problema del crash dobbiamo aumentare gli fps su Fortnite anche se hai un computer di fascia media bassa noi possiamo anche fare più di 150-200 fps grazie anche alle impostazioni di Nvidia per le schede grafiche Nvidia c'è il programma che si chiama Nvidia app che ti ho lasciato in descrizione è un'applicazione Nvidia app scarichi la beta e la installi volta scaricato e installato così la beta avvia un attimo Fortnite e poi chiudi Fortnite e ti apparirà qua dentro su impostazioni programma il gioco non è ottimizzato valore consigliato questo qua è come puoi vedere ha aumentato così gli effetti ha disabilitato le mesh retracing disabilitato però c'è la modalità di rendering DirectX 12 questa qua migliora la qualità ma riduce le prestazioni sul gioco questo che ci quello che ci interessa di più se hai una scheda grafica RTX come una 3060 3070 2060 2080 tipo schede grafiche con scritto RTX e hanno anche il supporto del DLSS questo qua è ottimo per migliorare gli fps al posto di qualità noi possiamo mettere prestazioni in questo caso il gioco non è ottimizzato prendo questo pallino e lo metto su prestazioni e faccio ottimizza come puoi vedere adesso Nvidia DLSS sempre questa modalità di rendering DirectX 12 poi dopo vi faccio vedere come avviarlo in DirectX 11 quindi non andremo a renderizzarlo di parecchio il gioco tipo che lo vedrai una meraviglia perché se lo vedi di una buona qualità il gioco potrebbe avere problemi e laggare anche se non supporti proprio quel tipo di grafica quindi ora andiamo un attimo su Epic Games 3 puntini Fortnite gestisci opzioni di lancio andremo ad avviarlo in modalità di rendering DirectX 11 trattino di 3d 11 e lo avvii 2 sui 3 puntini opzioni cede DirectX 12 rimuovila questa qua migliora la qualità del gioco ma riduce gli fps texture ad alta risoluzione è la stessa cosa come questa rimuovila oltre nel server al mondo tienilo non fa parte delle impostazioni grafiche prescarica le risorse trasmesse questo qua tienilo e fai applica togliendo anche la scegliere DirectX 12 e le altre grafiche quindi risoluzioni troppo alte risparmerai anche spazio sul disco un'olta fatto in descrizione ti ho lasciato così un programmino che si chiama Nvidia Profile Inspector eccolo qua è un pacchetto RAR quindi il pacchetto RAR è questo qua che andrai a scaricare tasto destro sopra WinRAR estrai i file in Nvidia Profile Inspector e ti apparirà così una cartella gialla con l'applicazione dentro clicca qua sopra vai qui e vai a scrivere Fortnite ed eccolo qua scendi fino a giù fino a trovare anti-lasing trasparenze super sampling in questa modalità vai a mettere il 04 più aumenti i numeri più la grafica si riduce io metto 04 scendi fino a giù fino a trovare texture questo è il filtro della texture più aumenti più la grafica si riduce io lo tengo su più 8 750 quindi più 8 8 750 quindi faccio più 8 750 text filtering tutte e due DirectX e OpenGL e applica più volte più di qua ritorniamo di nuovo sul programma Nvidia App impostazioni globali dimensioni cache shader questo qua metti senza limiti quando va a caricare a compilare a installare le shader si accumulano in dimensioni cache quindi noi non andremo a cancellare queste cache noi ce le teniamo e metto senza limiti perché ogni volta che avvio Fortress sto in partita non mi fa quei tipo di caricamenti che lagga e quando uscendo dall'autobus e tutte queste cose qua perché è già compilata la shader è già installata e quindi non ho neanche problemi di caricamenti perché il gioco lo tengo su un ssd nvmi che sono veramente ottimi al posto di tenerlo sull'hard disk che poi avrà i problemi di caricamenti modalità bassa latenza lo teniamo su ultra frequenza fotogrammi massima puoi anche impostare fino a 1000 fps tecnologia monitor compatibilità gsync modalità di gestione alimentazione mettiamo preferisce prestazioni massime questo l'abbiamo messo in attenzione verticale noi non dobbiamo bloccare gli fps ma dobbiamo mettere gli fps illimitati quindi facciamo disattivato e dimensionamento immagine questo è la nitidezza se vuoi fortnite più nitido l'immagine diventa più nitida al posto della sfocatura tipo se vedi fortnite malissimo se aumenti la nitidezza al 100 lo vedrai una meraviglia però avrai problemi di lag e basta tutto overclocking su nvidia e se vai sul sistema qui c'è scritto prestazioni qui tu puoi fare un overclock sulla tua scheda grafica cliccando qua sopra ricerca in corso andrà così a fare un overclock sulla tua scheda grafica automaticamente di solito ci metterai 15 20 minuti ma a me non funziona bene e non capisco il problema quindi per overclockare la mia scheda grafica vado sul programma msi afterburner ed eccolo qua ovviamente l'overclocking devi cercare il tuo overclock tuo della tua scheda video non puoi copiare quello che ho impostato sulla mia oppure puoi cliccare qua sopra e fare un overclocking automatico ti mette te lo fa afterburner afterburner te l'ho lasciato in descrizione quindi se fai su scan ci metterà veramente parecchio tempo e farà una scansione per vedere quanto può arrivare a overclockare la tua scheda per migliorare anche le prestazioni sui giochi aumentare fps durante le partite come puoi vedere mi ha cancellato la scansione perché qualcosa a me non va e quindi lo faccio spesso manualmente chiudo qua e ora non ci resta che entrare su fortnite quindi lo avvio in modalità di rendering direct x11 in esecuzione e attento una volta entrati così sul gioco vai direttamente nelle impostazioni e vai direttamente sulla grafica quindi c'è di piacere trovare grafica prima stazione di qualità metto ridotto vita dlss perché mia scheda grafica porta questo dlss in questo caso se non lo supporti tu puoi semplicemente mettere no super risoluzione temporale tu qua puoi mettere tutto no risoluzione 3d dinamica no ombre no illuminazione globale no distanza visuale mettiamo medio post processing metti ridotto texture metti elevato effetti ridotto e facciamo applica e mantieni così le modifiche sul gioco mostra anche di fps in caso puoi vedere quando di fps fai nvidia reflex on più boost e basta se sul programmino invidia profile inspector non ti trovi puoi semplicemente andare di nuovo qua sopra su invidia profile inspector facciamo sì eccolo qua clicchi qua sopra fortnite eccolo qua clicca qua sopra su questo luogo di invidia per ripristinare tutte le impostazioni quindi te le rimette di nuovo a come prima quindi senza usare il programma clicchi qua sopra ti fa un ripristino rimuovi tutte queste impostazioni qua sopra basta clicchi qua il gioco me l'ha messo anche in schermo intero in schermo intero non ci gioco mai quindi faccio finestra schermo intero mantieni le modifiche ovviamente queste sono le impostazioni che io uso su fortnite in questo caso siamo anche problemi di caricamento lo metto in finestra facendo alt più invio quindi per altri problemi ancora tu puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao